E un giallo ancora tutto da risolvere quello relativo al decesso di Lorena Paolini, la 53enne morta domenica scorsa nella sua abitazione di Ortona in Contrada Casone. Questa mattina in procura a Chieti si è svolto l'interrogatorio disposto dal PM Giuseppe Falasca a carico di Andrea Ceri, marito di Lorena, accompagnato dall'avvocato Maddalena di Gregorio negli uffici di Via Spaventa dove l'indagato è entrato da un ingresso secondario eludendo le telecamere della stampa presente sul posto. L'imprenditore 51enne che già nei giorni scorsi era stato ascoltato come persona informata sui fatti insieme ad altri familiari, questa mattina ha risposto alle domande del PM in maniera collaborativa come è stato riferito dal sostituto procuratore Giuseppe Falasca all'uscita della procura insieme al medico legale Cristian Dovidio e al comandante dei carabinieri di Ortona Luigi Grella. Le notizie certe da legge le dà soltanto il procuratore capo, io sono un sostituto quindi dovete chiedere al procuratore capo che è il dottor Gian Piero di Florio. Al momento del decesso della donna in casa sarebbe stata presente anche una delle due figlie di Lorena. Dormiva in camera sua e avrebbe riferito di non essersi accorta di nulla. Secondo quanto ricostruito dagli inquirenti è stato proprio Andrea Ceri a trovare la moglie agonizzante sul divano dopo essere rincasato nella tarda mattinata di domenica ed è stato sempre l'imprenditore ad allertare i sanitari del 118 che giunti nell'abitazione di Contrada Casone hanno tentato in vano di rianimare la donna. Sul corpo senza vita della 53enne non è passata inosservata l'ecchimosi presente sul collo che ha indotto gli inquirenti a ipotizzare un decesso per strangolamento e a escludere da subito le ipotesi di morte per cause naturali e suicidio considerate per quest'ultima ipotesi anche la scena del ritrovamento del corpo e la prima ricognizione cadaverica effettuata dal medico legale Cristian Dovidio al quale domani sarà formalmente conferito l'incarico. Ieri nell'appartamento sotto sequestro di Contrada Casone sono tornati anche i carabinieri della sezione investigazioni scientifiche del comando provinciale di Chieti alla ricerca di nuovi indizi. Sarà comunque l'esito dell'autopsia smentire o confermare l'ipotesi di omicidio su cui al momento indaga la procura della Repubblica di Chieti. Ulteriori dettagli per chiarire l'accaduto arriveranno anche dalla consulenza informatica sul cellulare di Lorena disposta dalla magistratura per cercare di ricostruire gli ultimi contatti della 53enne prima della sua misteriosa morte.